Guanti per i piatti da utilizzare per la disinfezione delle camere dei pazienti Covid-19, il lavaggio e la sanificazione dei camici in carico alle lavoratrici e ancora dispositivi di protezione mai consegnati, indicazioni disomogenee di ASST e ATS. In una lettera unitaria all'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, le sigle sindacali denunciano la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti di servizi delle pulizie, delle mense e della vigilanza, nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie, lavoratori che stanno garantendo in queste difficili giornate un servizio fondamentale che va ben oltre le loro possibilità e talvolta oltrepassa perfino le loro competenze ordinarie. Sono lavoratrici e lavoratori, scrivono i sindacati, in prima linea nell'interesse dell'intera collettività, spesso senza le dovute precauzioni e informazioni, a cui deve essere garantita la tutela della salute per la sicurezza loro e delle persone verso le quali prestano un servizio. Sono le stesse lavoratrici e lavoratori che, in passati recenti, sono state oggetto di tagli pesanti delle ore lavorative e delle retribuzioni, vittime di gare che la stessa regione e gli stessi istituti ospedalieri che ora le ringraziano e ne elogiano le disponibilità hanno avallato. Sul tema bandi di gara, capitolati d'appalto nelle strutture ospedaliere, chiederemo a Regione Lombardia, finita l'emergenza sanitaria, di aprire un tavolo di confronto, perché non è sufficiente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per garantire la qualità del servizio e la qualità del lavoro. Il lavoro, in questi giorni continuano i sindacati nella lettera all'assessore Gallera, è svolto in condizioni estreme, spesso sottovalutando le problematiche legate alla sicurezza che, mai come oggi, assume un carattere di eccezionale priorità. La richiesta è che gli ospedali e le strutture private accreditate e convenzionate e le imprese siano messe nelle condizioni di dotare tutte le lavoratrici e i lavoratori dei dispositivi di protezione previsti e adottino tutte le iniziative necessarie per garantire loro la sicurezza attraverso trattamenti omogenei tra dipendenti diretti e indiretti. Non è mai accettabile, scrivono ancora i sindacati, e ancora più in una situazione di emergenza sanitaria, una difformità di trattamento tra lavoratori diretti e lavoratori in appalto, ed è necessaria un'adeguata informazione e formazione delle lavoratrici e lavoratori degli appalti sulle misure, i protocolli e atti ad evitare la diffusione e il contagio da Covid-19. Chiediamo altresì che venga attivata per queste lavoratrici e questi lavoratori la sorveglianza sanitaria, in analogia a quanto avviene per gli operatori dipendenti e che sia monitorato costantemente il loro stato di salute. Diversamente, anche le direzioni sanitarie dovranno assumersi la responsabilità in caso di danno biologico.